Siamo arrivati a marzo. Le ID di marzo. Allora, parla tu. Parliamo questa volta di amplificatori a confronto. Quindi parliamo di amplificatori che a quanto pare sul nostro canale sono uno degli argomenti più amati. Più blasonati che ci sono, sì. Per quale motivo non l'ho capito, perché più gli amplificatori che non i diffusori o i risorgenti non lo so, però comunque vi vogliamo bene e quindi abbiamo deciso di fare una suaree dove parliamo di amplificatori a confronto. Esatto. Quali amplificatori confronteremo? Confronteremo amplificatori di varie fasce ponendoci una domanda. Serve davvero spendere di più per avere la qualità di un amplificatore di fascia media o di fascia alta rispetto a un amplificatore di fascia bassa? Che cosa otteniamo in cambio rispetto al controvalore economico offerto? Probabilmente scopriremo che gli ammazzagiganti non ci sono e che… Posso essere facile profeta? Fai. Scopriremo che gli amplificatori che costano di più. Spesso e volentieri suonano meglio? Magari. Va bene, su questa questione aperta… Anche perché qui abbiamo tre fine di Mark Levinson. Va bene, su questa questione aperta vi invitiamo a venirci a trovare e proveremo a dare delle risposte. Ciao. Ciao.